E allora signori eccoci qui in diretta dall'Arco Naturale Club Viva Radio Jolly, questo oggi parliamo dello sport, lo sport qui all'Arco Naturale, lo sport che va per la maggiore è sicuramente il tennis, sui nostri campi le nostre due tenniste Monica e Rosa ogni giorno tengono lezioni collettive di tennis, lezioni private ma intervistiamo proprio Rosa, una delle nostre istruttrici di tennis qui all'Arco Naturale, Rosa qualche domanda per Viva Radio Jolly, le nostre telecamere Bene, sappiamo che il tennis è uno sport che va per la maggiore e quell'Arco Naturale, ogni mattina tanti sono i bambini che partecipano alle tue lezioni, più o meno questa mattina quanti erano? Mia, mia figlia e i masettotini con tutti i bambini Bene bene, un'altra domanda, noi consigliamo sempre un abbigliamento tecnico a tutte le persone che vogliono giocare qui a tennis e soprattutto visto che i campi sono all'aperto, batte il sole, ecco magari un cappellino o una protezione solare Questa mattina non avevi la protezione, sappiamo che hai avuto un piccolo incidente, che è successo? È successo, ma già picciato! Perfetto, noi ringraziamo Rosa, vi invitiamo a partecipare alle nostre lezioni collettive di tennis ogni mattina a 9.30 Arco Naturale Club, ciao!